Ben trovati, oggi il secondo incontro delle attività autunnali dello Studium Fidei verterà sulla presentazione del volume Antonio Smareglia e il suo mondo, lavoro qualificante della professoressa Giuliana Stecchina, che è presente e anche dirigerà un po' l'incontro di oggi. Assieme a Giuliana Stecchina abbiamo l'attrice Miria Levi, che reciterà il monologo da Antonio Smareglia e il suo mondo e quindi avremo la gioia di sentire da una voce qualificante il monologo appunto di Antonio Smareglia. Presentiamo molto volentieri gli uomini, le donne che hanno resa qualificante, famosa la nostra città nell'arte, nella letteratura e nella musica. E quindi ringraziamo coloro che gli studiosi, che hanno voluto approfondire la personalità e anche l'opera di questi personaggi. In modo particolare mi preme ringraziare la professoressa Giuliana Stecchina, che è autrice di molte opere di qualità. Quella che mi è rimasta maggiormente impressa è l'opera che lei ha fatto sul silenzio e quindi ve la consiglio. Ma sono molto curioso di vedere come questa sera viene presentato il suo lavoro su Antonio Smareglia e il suo mondo. Ora saranno presentate le musiche, cioè i brani musicali, che i nostri violonisti hanno preparato per questa serata. Prego. Buonasera, da Edoardo Milani, in rappresentanza dell'Associazione Gioventù Musicale. Questa sera sono in duo con un carissimo amico, che è Marco Zanettovich, quindi suoneremo duo violino e flauto. E vi presenteremo dei piccoli estratti, perché naturalmente per motivi di tempo andiamo a spulciare un po' nella musica, che riguardano Carl Stamitz, autore che ha scritto tanto per flauto, ma ha fatto anche dei simpatici duetti, Gaspar Kummer e poi chiuderemo con Leon Cavallo. Io colgo l'occasione per ringraziare Don Ettore, del suo gentile invito, e anche complimentarmi con Giuliana, collega musicista anche, che non tutti lo sanno, anche bravissima artista, che sempre ci stupisce con questi suoi lavori veramente di grande qualità. Grazie. 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 Comincio a parlare io? Ancora un altro? Grazie. 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 Ringrazio tanto Don Ettore che ogni tanto mi invita qui e il ritorno è sempre estremamente piacevole. Ma ringrazio naturalmente anche Marco e Edoardo, ci conosciamo da una vita, ci stimiamo e ci vogliamo molto bene. Ci siamo anche aiutati in varie occasioni e Marco mi ha aiutato, lo ricorderò sempre, a stilare ben due libri sul trio di Trieste. Quindi da lì è nata una forma di fratellanza Marco, devo dire fratellanza. Edoardo uguale perché c'è tutto uno scambio di libri eccetera. Perché entrare nell'argomento dell'amicizia quando si sta per parlare di un caso a parte nella storia della musica. Un caso vessato da tanti nemici, da tante parole brutte, da tanti ostacoli, dalla cecità. Questa fu la vita di Antonio Smareglia. Per questo motivo, proprio perché è allonato di un senso di disagio anche da parte del pubblico, che apprezza moltissimo la sua musica e rimane in forte disagio verso la sua persona. Per questo motivo ho cominciato il mio libro partendo dalla fine, e cioè dal testamento, che proprio fine non è, perché è stato stilato sei anni prima della morte, corrispondente al 1929. Morì a grado, era amico di Biagio Marin e morì ospite di un suo nipote, medico, persona bravissima, fortemente portato per la musica, con una memoria musicale incredibile. Biagio Marin ci dà ampio resoconto di tutti e due, con grande stima. Bene, sei anni prima di morire, Antonio Smareglia stila un testamento che è un programma, ma io cito soltanto una breve frase. Nelle difficoltà ed amarezze della mia esistenza, conforto supremo mi è sempre stato l'essere seguito con sublime e ineffabile abnegazione dalla mia adorata compagna Maria Polla, che mi ha compensato largamente di tante avversità, sofferte. Non scriveva male Smareglia, assolutamente no. Non era portato per le lingue, non imparò mai bene il tedesco, faceva degli strafolcioni incredibili quando voleva scrivere a vari musicisti tedeschi, ma nell'italiano era convincente. Maria Polla, dico, e così arrivo alla presentazione. Maria era detta anche chiamata in casa, Yeti. Il libro mio, infatti, si articola su più piani. Una è la storia della musica vera e propria, in cui evidentemente Smareglia si staglia a tutto tondo. Una è la storia della persona e della formazione di Smareglia, avvenuta per lo più a Milano, ma con dentellanti importanti anche a Grazia e a Vienna. e infine i monologhi. Io nel libro, proprio perché ci trovavamo davanti a un caso umano non indifferente, un caso umano che si sta portando avanti da decenni a decenni, nel libro ho appunto dedicato a Smareglia quattro monologhi. Il primo dedicato alla mamma, il secondo a Yeti, la moglie, che adesso noi vediamo e constatiamo era quanto mai rimpianta, gli era premorta da molti anni. E però sentiremo altre campane da parte di Yeti, che sarà impersonata per l'appunto dall'amica Miria Levi. Poi Tonci, perché lui in casa era chiamato Tonci, e poi il seggio di Nerone, perché era rapito dalla latinità, dalla storia latina, e di conseguenza Pola, nato a Pola, a Polesano, si sentiva molto orgoglioso e lui, nella famosa arena di Pola, dove si sedeva naturalmente nel seggio più importante, che lui naturalmente con disinvoltura era un bambino chiamava il seggio di Nerone, senza guardare un po' le date di costruzione dell'arena, che erano antecedenti all'avvento di Nerone. Comunque a lui andava bene così, perché gli piaceva questa importanza che gli dava l'arena. Ma questo primo aggancio, diciamo, al testamento va integrato. Ai miei cari figli non lascio che il mio patrimonio artistico, dal quale per me e per la loro adorata mamma non sono riuscito a trarre quella fortuna che la misteriosa voce della coscienza ci assicurava in un sogno, durato tutta la vita. È vero che una quantità di amici, di ammiratori e di soddisfazioni non mi sono mancate, ma questo non riuscì a compensarmi che poveramente di un'infinità di angustia e di difficoltà tra le quali è trascorsa, si può dire, gran parte della mia esistenza è quella della mia famiglia. Quindi è già una prima risposta in prima persona, la sua voce, il suo scritto, le sue parole, il suo dramma, che non cominciò subito. Anzi, l'infanzia e l'adolescenza furono particolarmente sereni. Nasce nel 1854, 41 anni dopo Averdi, 41 anni dopo Wagner. Ricordiamoci queste date, perché 40 anni in differenza vogliono dire qualcosa. Eppure Sbareglia si rapporterà a Averdi e a Wagner con disinvoltura incredibile e trancerà anche dei giudizi che non gli faranno comodo poi nella carriera. Ma proseguiamo. La madre lo desiderava con tutta se stessa e non perché ogni donna desidera essere madre, non era solo questo. Lei aveva già seppellito tre bambini fra carestie, fra pestilenze. Lì la morte infantile evidentemente trionfava. Erano benestanti, ma questo non era sufficiente. a Pola erano molto stimati e quindi il papà naturalmente, come la mamma, non vedeva l'ora di avere dei figli. Infatti è vero, perché dopo Antonio, dopo Tonci, nacquero altri due. La mamma aveva fatto pellegrinaggi in tutte le chiese di tutte le madonne dell'Istria. Era andata anche la madonna di Tersatto. È una storia anche tenera, veramente. Ma questo ci fa anche capire come la mamma, nei confronti di Tonci, fosse stata poi estremamente tollerante, perché era talmente grata di averlo che forse l'eredini non le ha attese troppo, anzi per niente. Tonci è un bambino indipendente, molto acuto, molto bravo in matematica, sveglio, sveglissimo, solitario. Nelle sue vene scorre sangue italiano, croato, sloveno. E ci sono dei forti contrasti in lui, perché in qualche maniera è anche imparentato, risalendo nei secoli, con una razza battagliera della Slovenia e della Croazia, molto, come dire, importante nelle battaglie navali. E lui questo spirito battagliero l'aveva fortemente. la voglia di dire no, la voglia di affermarsi anche con frasi a volte inopportune. Perché inopportune? Beh, ditemi voi, chiamare Verdi il chitarrista, forse non è il caso. Ma altre frasi del genere costellarono la sua vita. Dicevo che la sua infanzia è stata particolarmente serena, perché? Perché faceva quello che voleva. Scappava da scuola, allora i suoi via via lo mandano in altre scuole più lontane. Da Pola lo trasferiscono a Pisino, da Pisino a Capodistria, lui scappa, scappa sempre. Scappa nascondendosi nel fieno di un carro da buoi, scappa nascondendosi in tutte le maniere, ma scappa, scappa sempre. Alla fine i genitori disperati lo mandano a Gorizia. E questa è la prima tappa veramente italiana di Sbareglia, neanche Gorizia combina molto. Da Gorizia verrà trasferito alla scuola superiore di Graz, dove dovrebbe imparare il tedesco, ma non è proprio il suo forte, e dove comunque ha una grande rivelazione. La musica, ma soprattutto la musica classica. La musica non era una novità nella sua famiglia, perché il papà suonava in banda, conseguentemente lui era abituato a sentire suonare ogni giorno, ma la musica classica, Beethoven, Bach, gli stravolgono completamente la vita, e lui comincia a suonare il pianoforte così da dilettante, ma capisce che è il suo, non il pianoforte, la composizione. Il pianoforte no, perché le sue mani sono piccoline, e quindi avrà sempre dei grandi disagi tecnici, uno perché comincia a studiarlo in età già avanzata sui sedici anni, e due perché proprio la natura non lo avvantaggia. Ma questo, naturalmente, la difficoltà guzza l'ingegno e lo porta a trovare delle soluzioni armoniche e melodiche, tali per cui si semplifica la partitura e con le sue manine piccole comunque risolve il problema. Non so, per dire, un passaggio di Beethoven particolarmente difficile, lui lo risolveva aggiungendoci tre battute in modo da sistemarsi un po' la manina e arrivava puntuale, naturalmente, a ritmo, superando la difficoltà tecnica che se no per lui sarebbe stata assolutamente eccessiva. Torna a casa da Graz, naturalmente, annunciando che no, che la musica era nel suo destino. e adesso facciamo una piccola pausa musicale perché sappiamo che i musicisti devono andare via e poi passeremo dalla pausa musicale direttamente a Miria perché Miria vi proporrà un monologo IETI. in 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 Grazie a tutti. 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 Franco Faccio. Grazie a tutti. 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 perché 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.